Ecco, Sindaco, ballottaggio fu, quindi domani i risultati, insomma l'affluenza è più scarsa rispetto alla volta precedente, però insomma la gente sta rispondendo. Sì, fisiologico, nei ballottaggi c'è sempre una certa percentuale di calo, però insomma sono convinto che i reggini non tarderanno a presenziare a questo appuntamento e a decidere, a scegliere quella che sarà l'amministrazione per i prossimi cinque anni, quindi naturalmente quello che posso dire oggi è soltanto buon voto a tutti i reggini, il voto è sempre una scelta importante, è sempre una scelta consapevole, ma soprattutto è sempre una scelta che va fatta, quindi rimanere a casa non risolve il problema e quindi allo stesso tempo è un modo, un'esortazione per invitare tutti alla partecipazione democratica. Grazie, grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.